GADDA, FRATOIANNI, TANCREDI. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 387 favorevoli, 5 contrari, la Camera approva. Adesso andiamo al 2701 della Commissione. I pareri sono favorevoli. Non ci sono interventi. Gigli chiede di intervenire. Prego. Grazie, Presidente. L'Italia democratica è nata dalla resistenza. Alla 150esima votazione possiamo dire che i parlamentari di oggi sono degni figli dei padri fondatori della nostra Repubblica. 27.101 della Commissione. Non mi costringete a chiedervi a che titolo intervenite ogni volta che alzate la mano, per favore. 27.101 della Commissione. I pareri sono favorevoli. Dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. chiusa la votazione. 373 favorevoli, 19 contrari, la Camera approva. 0.27.100.2 Sarti, parere favorevole. Mattiello, prego. Ci ritroviamo, parere favorevole? Bene.